Siamo qui con Marco Travaglio per Polimedia Web TV. Ti volevo chiedere, cosa scriverebbe oggi Montanelli riguardo questa situazione italiana, riguardo questa crisi? Quale sarebbe il suo pensiero? Non ne ho idea, solo lui lo può sapere. Io mi sono limitato a mettere in fila quello che lui aveva scritto fino al 2001. Poi quello che è successo dopo non è che sia molto diverso da quello che era successo già prima. Noi viviamo in un perennere play, quindi basta leggere i pezzi degli articoli suoi che ho riportato in Montanelli e il Cavaliere e uno se ne può fare un'idea chiara e precisa di quello che scriverebbe oggi. Potrebbe essere oggi una via d'uscita investire sull'università, investire sui giovani? Beh sì, perché fra qualche anno i vecchi saranno tutti morti, quindi si investe sui giovani. Poi un'ultima domanda sulla web tv. L'anno scorso Santoro ha dichiarato che le web tv potrebbero essere un modo per uscire dalla censura. Secondo te questi nuovi media potrebbero portare una boccata d'aria alla situazione italiana? Certo, poi dipende però dal numero delle persone che le vedono, perché se 30 milioni di persone continuano a vedere Rai e Mediaset bisognerà occuparsi anche di migliorare quello che succede a Rai e Mediaset e le web tv sicuramente sono una piccola alternativa di nicchie e sono magari anche uno stimolo. Quando una televisione sa che ci sono sulla rete altri canali che possono dare ciò che la televisione non dà magari le televisioni hanno un po' più paura a nascondere ciò che invece nascondevano una volta quando erano monopoliste assolute del settore. Grazie. Grazie a voi.